Amatevi ed aiutatevi a vicenda. Figli miei, come non benedirvi e incoraggiarvi, mentre mi dimostrate tanto affetto e tanta buona volontà. Sì, continuate ad amarvi e ad aiutarvi a vicenda. I magi, dopo aver studiato le sacre scritture e scrutato il Corso delle Stelle, furono in grado di individuare il bambino, figlio di Dio fatto uomo, e di presentare a lui il meglio di loro stessi. Anche voi portategli i vostri cuori che costituiscono il dono d'amore, portate la vostra preghiera, che viene rappresentata dall'incenso, e non ultimo il dono della mirra, che è quella parte di sacrifici a cui vi sottoponete. Io benedico la vostra offerta e dico, come già fu detto ai magi, ritornate ai vostri paesi seguendo un'altra strada. Ritornate a casa, nelle vostre parrocchie e nei vostri posti di lavoro, trasformati. Siate vere testimonianze del Cristo, vero Dio e vero uomo. Sappiate compiere ogni vostro dovere guardando al cielo, e la fede lo illumini e lo guidi. Sappiate compiere ogni vostra azione con quell'umanità e con quell'amore, per cui tutti vengano attratti non già a voi, ma a colui per il quale voi agite. Così fecero i magi, e dopo aver speso la loro esistenza nel far conoscere la nascita del Messia, la coronarono col martirio e furono degni del premio eterno. Figli, la vita è una prova d'amore, che voi dovete dare a colui che è sceso dal cielo in terra per amore. Sviluppate questa divina semente che, cadendo dentro di voi nel giorno del battesimo, deve diventare albero grande e produrre frutti di vita eterna. Accrescete sempre più la fede. Aumentate mediante l'amore, quella grazia santificante così preziosa perché vi fa vivere di Dio, e la speranza sia sempre compagna della vostra vita, così da non permettere nessun turbamento, nessun dubbio, nessuno sconforto. Siate testimoni della presenza di Dio nel mondo con la parola e con le opere, perché il mondo si ravveda e ritorni a Lui.